Vi è mai capitato di lavorare con un team altamente produttivo, ma assolutamente incapace di aprirsi per collaborare con le persone al di fuori del gruppo? Questa è una delle innumerevoli trappole nelle quali team possono cadere quando non sono consapevoli della loro esistenza. Ma che cos'è una trappola? Tecnicamente possiamo definirla un insieme di dinamiche che portano il team a fallire. Se vuoi sapere quali sono le trappole, i loro sintomi e le strategie per gestirle o prevenirle, partecipa al webinar OLEARN dal titolo Le trappole del team, in programma venerdì 11 dicembre dalle 16 alle 17. Per iscriverti vai su www.olearn.it. Ciao, io sono Angela Donati, ci vediamo venerdì 11 dicembre alle ore 16.